Il prosciutto di Sauris è il risultato dell'incontro tra due culture, tra due popolazioni, quella friulana che utilizza il sale per la preparazione dei prosciutti e quella germanica che utilizza invece la fumicatura. La dieta dei suini destinati alla produzione deve avvenire secondo un rigoroso disciplinare. Gli ingredienti previsti sono esclusivamente il sale, il pepe e l'aglio sono vietati conservanti. La leggera fumicatura viene ottenuta in maniera naturale utilizzando esclusivamente legno di faggio. Stagionato per almeno dieci mesi è riconoscibile grazie al suo profumo tipicamente dolce e dalle cosce. Grazie a tutti!